Vertice di maggioranza oggi alla regione Lombardia tra Formigoni e il segretario della Lega Lombarda Matteo Salvini. Formigoni ha detto di aver preso un impegno con gli elettori in Lombardia così come in Veneto e Piemonte. Dobbiamo andare avanti ha detto Formigoni con il nostro impegno che vogliamo e dobbiamo mantenere fino al 2015. Salvini invece ha riferito che non si è parlato di scadenze elettorali ma di temi concreti e ha affermato che ogni mese si farà il tagliando e finché la Lega sarà soddisfatta speriamo a lungo si andrà avanti. Tre persone sono state arrestate nell'ambito dell'inchiesta sul San Raffaele. Due dei tre responsabili della security dell'ospedale Antonio Cirillo e Francesco Pinto sono accusati di un furto da un milione di euro che sarebbe avvenuto il 13 luglio del 2011 poco prima del suicidio di Mario Cal. I soldi sarebbero stati sottratti dal cavo dell'ospedale. Danilo Donati invece sempre membro della security del San Raffaele è stato arrestato con le accuse di tentata estorsione e incendio. A lui contestate in concorso con il fondatore Don Luigi Verze morto nei mesi scorsi. Una vicenda che riguarda un campo da calcio a Tigua all'ospedale. È polemica Palazzo Marino dopo che la regione ha deciso di realizzare la città della salute a Sesto San Giovanni sulle aree ex Falc con il comune di Milano che non è riuscito a tenere besta a istituto dei tumori in città. Carmela Rozza capogruppo consigliare del PD al comune di Milano ammette abbiamo sbagliato in postazione ma Formigoni sta bleffando. Due studenti ventenni sono stati pestati a sangue da 12 ragazzi in mezzo alla movida dell'arco della pace, il più recente di una serie di episodi da paura. Nelle ultime due settimane a Milano un uomo è stato aggredito in via Vetere e tre vigili aggrediti sui navigli da giovani che hanno tentato di rubare loro la pistola. 17 persone sono state arrestate dai carabinieri del comando provinciale di Rimini per spaccio di cocaina e hashish. In manette 13 italiani, 3 bulgari e un albanese. Tre di loro, secondo le indagini, avevano contatti con personaggi della criminalità lombarda ed erano in grado di commerciare anche due volte al mese partite consistenti di droga nell'ordine di 500-600 grammi alla volta. Si aggiunge altro dolore all'incidente di venerdì notte, già costato la vita a due giovanissimi bergamaschi. È morta agli ospedali riuniti di Bergamo anche Fabiana Frigeni, la sedicenne che si trovava sulla Ford Escort con Davide Sabbadini, 19 anni, e Giulia Aceti, di 15, nel tragico schianto a Romano di Lombardia in provincia di Bergamo. Utilizzavano centinaia di lavoratori formalmente assunti da altre società compiacenti che non pagavano né contributi né imposte per adempiere alle commesse che si aggiudicavano in tutto il nord Italia a prezzi naturalmente molto competitivi. Una maxifrode contributiva e fiscale è stata scoperta dagli uomini della Guardia di Finanza di Gallarate in provincia di Varese. Denunciati 11 imprenditori, individuati oltre 1.400 lavoratori irregolari, scoperta un'evasione per 23 milioni di euro. Un treno proveniente da Lecce diretto a Milano è rimasto fermo per oltre un'ora per un guasto a Melegnano poco prima di arrivare nel capoluogo e diversi passeggeri hanno chiesto l'intervento del 118 per malori causati dal caldo. Il treno è arrivato a destinazione con circa due ore di ritardo.